Si sta protestando per il pagamento del parcheggio all'ospedale di Prato perché ci sembra una cosa ingiusta perché uno che ha bisogno di curarsi all'ospedale oltre che a curarsi deve pagare anche il parcheggio. Questa è la nostra protesta. Quanto costa attualmente il parcheggio? Si può parlare un po' di orario? Il parcheggio lo stanno definendo adesso in regione. Si parlava di un euro l'ora. Se deve andare a fare una dialisi oppure deve andare a fare assistenza a un paziente perché è all'interno dell'ospedale se ci sta otto ore, cioè che devo pagare dieci euro per starci oppure se fanno a giornata ancora non si sa di preciso come vogliono organizzare il pagamento di questo parcheggio. Aspettiamo risposte anche da parte dei sindaci e degli assessori che sono all'interno dell'assessorato che stanno discutendo di questa cosa per capire quanto e come verrà fatto il pagamento di questo ospedale. L'unica cosa, qualsiasi cifra sia, per noi è ingiusto. E' ingiusto perché uno che si deve curare deve andare a pagare il parcheggio. Io posso capire, uno va in centro a fare shopping o va in cosa, è giusto, vado con la macchina perché lì addirittura l'ospedale nuovo, cioè il parcheggio serve solo ed esclusivamente per l'ospedale.